Ieri un incontro con l'amministrazione per definire quelli che sono i punti deboli e a vostro dire giustamente che possono mettere in crisi le attività commerciali. Sì, ieri è stato un incontro per noi molto importante e abbiamo ottenuto un risultato molto importante, quindi siamo molto contenti come Confcommercio e chiaramente con tutto il lavoro fatto con gli operatori. Noi ieri chiaramente ci siamo presentati con una difida legale logicamente perché il nuovo regolamento aveva delle criticità molto importanti che andava a ledere comunque tutto il lavoro degli operatori che veramente rischiavano di chiudere. Quindi noi ci siamo proprio messi dalla loro parte perché chiaramente noi siamo qui per difendere gli operatori, le aziende e i commercianti. Di conseguenza siamo andati proprio giù diretti con la difida per proprio far vedere che il regolamento non andava bene. E fortunatamente questo è stato capito, quindi adesso si metteranno sia l'avvocato da parte nostra Lorenzo Ruggeri che l'avvocato del comune Romoli a discutere, insomma a mettersi d'accordo sulle criticità proprio del regolamento. Un regolamento che appunto apportava proprio delle modifiche che andavano contro il lavoro degli operatori e questo per noi non era possibile, non potevamo permetterlo perché comunque creava un disagio, andava a togliere dei posti di lavoro e faceva chiudere delle aziende veramente. E' chiaro che abbiamo trovato da parte dell'amministrazione fondamentalmente poi un'apertura dove hanno capito che comunque c'erano effettivamente delle criticità, quindi c'è stata una missione da parte loro di responsabilità. Allora il vostro legale però prima di andare in comune a parlare con la controparte farà una raccolta di quelle che sono le vostre istanze. Sì, chiaramente ci sarà un incontro con gli operatori, ci sarà appunto una raccolta di tutto, di tutto quello che sono le criticità e poi andrà a confrontarsi con l'altro avvocato, quindi si incontrerà con gli operatori e di questo noi siamo molto contenti perché soprattutto noi l'abbiamo fatto per loro, andrà dall'avvocato e decideranno insieme tutte le criticità da andare a cambiare nel regolamento.